Nella sala verde della cittadella regionale, gli agenti di polizia locale hanno seguito il primo corso di qualificazione regionale organizzato dal Dipartimento Organizzazioni e Risorse Umane, un corso indirizzato per lo più agli agenti di polizia locale con funzioni di brigadiere capo. Dal 1990 la legge 24 regionale che riceveva una norma nazionale parlava dell'istituzione di una struttura di coordinamento regionale delle polizie locali e anche di corsi di formazione e adeguamento delle divise, delle attrezzature, dei mezzi eccetera. Abbiamo dovuto aspettare oltre 30 anni per poter costituire questa struttura di coordinamento regionale che è preseduta dal Presidente del Consiglio regionale con l'assessore regionale competente per lei e ci sono i 5 comandanti dei comandi provinciali, nonché il comandante della provincia di Cosenza e della città metropolitana. Questa è la struttura di coordinamento. Questa amministrazione ha puntato su un'attività di riorganizzazione e miglioramento di tutti i corpi di polizia locale della regione quindi attraverso un regolamento che è stato approvato in giunta in applicazione di una legge regionale che esisteva da parecchio tempo è stato approvato il regolamento che prevede diverse cose tra cui anche l'adeguamento e la normalizzazione di tutti i colori, delle divise, dei gradi eccetera ma anche un'attività soprattutto di formazione per tutti gli appartenenti ai corpi della polizia locale che sarà una formazione continua ma anche una formazione per i passaggi di grado all'interno del comparto. Questo è il primo passo, quello più concreto. Diamo attuazione a una legge del 2018. Io penso che sia una cosa importante avere anche dal punto di vista visivo una polizia locale in Calabria che sia uniforme in tutte le province, in tutti i comuni. Adesso il primo passo è la formazione alla quale stiamo dando inizio. Io insieme all'assessore Pietro Paolo e al dirigente del settore Salvatore Lopresti abbiamo lavorato per cercare di mettere in pratica e dare voce a quella legge del 2018 che è rimasta inattuata fino ad oggi.